Accolta dalle sei confraternite di Adrano, oggi pomeriggio ha fatto tappa in città in pellegrinaggio l'icona di Maria Madre di Speranza e delle confraternite, che resterà fino a domenica mattina nel santuario Maria Santissima Ausiliatrice di Adrano. L'icona della Vergine Maria è partita lo scorso 8 maggio da Pompei per girare tutte le diocesi d'Italia fino al prossimo giubileo del 2025. Adrano è l'unica tappa della diocesi di Catania. Dopo una piccola processione percorso a Garibaldi, l'icona è stata traslata nel santuario Adranita, dove è stata celebrata la Santa Messa da Donno e Giovanni Sciuto, delegato arcivescovile per le confraternite. A rappresentare istituzionalmente il comune di Adrano, l'assessore comunale Salvo Italia, ma sentiamo Dino Laudani, presidente della Confederazione Diocesana delle confraternite. La comunità di Adrano a questo onore farà da cornice di fede in questa tappa, sarà l'unica per tutta la diocesi di Catania, in una tre giorni intensa sicuramente di preghiera e di riflessione. Come ha ben detto, l'icona completerà il suo lungo peregrinare proprio nel giubileo delle confraternite a maggio del 2025 a San Pietro. Ricordiamo che l'icona resterà qui per tre giorni, poi domenica partirà alla volta di Siracusa. Sì, saranno tre giorni, iniziamo oggi, abbiamo iniziato oggi con il raduno e con la processione e la celebrazione eucaristica e poi proseguirà domani con una veglia di preghiera per la pace, perché oggi c'è bisogno soprattutto di mettere al centro anche della nostra vita un messaggio assolutamente di speranza anche per quei popoli che oggi soffrono la guerra in qualsiasi longitudine e si trovino e vivano.